Amici di Parliamone, amici di Aretto2, una cordiale buonasera, bentrovati, un altro appuntamento quest'oggi ospiti in studio con noi c'è Francesca Iacarelli, buonasera Francesca, grazie per aver accettato il nostro invito, Francesca è una campionessa del pattinaggio a rotelle, per chi non lo sapesse lei già in passato ha calcato campi e palasport veramente di grande livello, campionessa europea, poi lei adesso pian piano ci racconterà un escursus di quello che è stata la sua vita, la sua grande passione, questa passione che è nata all'età di tre anni, no? Raccontaci un po', facci un po' il percorso. Allora, sì, ho iniziato a tre anni perché ho una sorella più grande di due anni e mia madre vedendo le locandine attaccate all'asilo ha detto perché no, proviamo ad iscriverle, era l'età in cui copiavo tutto quello che faceva mia sorella, ha iniziato lei, piano piano ho iniziato anch'io, così da cosa nasce cosa, ho visto che mi piaceva tantissimo e ho continuato fino a 18 anni. Da tre a diciotto anni? Da tre a diciotto anni, sì. Quindi sempre gare, diciamo, a livello agonistico? Piano piano sì, dai fino ai sei anni ho giocato, poi vedendo che mi riusciva, piaceva e tutto, diciamo anche da parte delle società hanno visto che potevo fare gare e piano piano l'escalation è stata un po', diciamo in salita, però siamo arrivati a un punto. Come nasce la passione per questo tipo di sport, per il pattinaggio a rodelle? Ma credo perché a me piace tantissimo la musica, quindi tutto quello che è musica insieme al ballo e da lì ho provato prima di tutti i pattini e mi è piaciuto subito, quindi è nata un po' da sola la cosa. Quindi da lì hai cominciato a iniziare i primi passi e poi come è cresciuto il livello da passione a vero e proprio professionismo? Perché poi possiamo dirlo, sei arrivato ai campionati europei, medaglia d'oro, diciamolo. Perché diciamo che niente, facendo gare alla fine con il confronto sul campo, con altri, prima bambini poi ragazzi e anche gli altri allenatori magari hanno visto diciamo delle potenzialità fino a che all'età verso 12 anni, 13, venne un allenatore da Roma che è Alessandro Bertagni e faceva la coppia danza all'epoca e ci ha seguito lui, a me l'altro ragazzo che fattinava con me all'epoca, bambini, ci ha seguito e da lì sono arrivate diciamo le prime convocazioni in nazionale. Prima dei campionati europei veri e propri sono stati i trofei europei perché eravamo comunque piccoli, il trofeo di Etang, ne ho fatti tre di quelli là, poi appunto i campionati a seguire, il campionato europeo a Tavira nel 2003 che abbiamo vinto in coppia danza. Poi l'escalation è stata un po' particolare perché da Viterbo sono passata alla società di Anguillara. Da Anguillara alla società di Rimini che è la squadra più forte d'Italia se non al mondo, gli allenatori sono i tecnici della nazionale della specialità di coppia artistica e insomma ecco, con in mano persone molto molto competenti e brave sicuramente, sono riusciti a tirare fuori quello che era forse un po' di caratteristiche mie, genetiche. Dalla coppia danza sono passata poi la coppia artistica e da lì anche i campionati europei e anche i campionati del mondo. Sempre nel 2006 abbiamo fatto il primo campionato europeo che abbiamo vinto con un altro ragazzo, poi ho pattinato, dall'inizio era un altro, coppia danza un bambino, coppia artistica un altro ragazzo. Abbiamo vinto questi campionati europei, poi sempre nel 2006 è arrivata la convocazione per i primi mondiali e lì ci siamo classificati secondi nella categoria junior. Poi nel 2008, il mio ultimo, dico ultimo perché poi da lì ho smesso, un altro campionato del mondo a Kaohsiung nella categoria senior dove siamo arrivati lì terzi. È stato un bel campionato perché è tutto il podio italiano e della società di Rimini, quindi è una bella cosa. 2006 medaglia d'oro a Monza, 2006 medaglia d'argento in Spagna, 2007 medaglia d'argento al campionato europeo in Francia, 2008 medaglia di bronzo in Cina. Quindi insomma questi alcuni dei punti diciamo più importanti della tua carriera. Mi sembra di capire quanto sia stato però importante l'avere incontrato un, diciamo, un istruttore di livello. È tutto perché adesso che insegno, quindi da allenatrice, vedo che magari sotto mano ne capitano di bambini più o meno portati, chiaramente, però sta poi molto all'insegnante a saper tirare fuori da ognuno le caratteristiche perché spesso hai un talento ma non si è in grado magari di tirarlo fuori oppure viceversa, non hai chissà che talento, però è bravo l'allenatore a tirare fuori il massimo che quel bambino, un ragazzo può dare. Quindi il manico, come si dice, è importantissimo. In questo caso sì. Assolutamente sì. Hai ragione. In tutto questo, la federazione italiana, in questo caso pattinaggio, come vi ha sostenuto, se vi ha sostenuto? Beh oddio, questa è una federazione che, diciamo, non essendo sport olimpico, non è che giri chissà che pubblicità o sponsor o cose, quindi è un po' un problema diciamo perché fa parte purtroppo degli sport minori, se così possiamo dire. Perché sul ghiaccio è olimpico da sempre, è bellissimo e tutto, però ecco lo stesso a rotelle purtroppo no. Quindi come quello che può la federazione, diciamo. Quindi purtroppo ancora una volta andiamo a sottolineare il discorso che spesso e volentieri i grandi risultati non sono, non fanno, diciamo, notizia se non in straordinari eventi come in alcuni episodi, diciamo, di campionati mondiali e neanche tanto, mi sembra di capire. Per cui diventa necessario anche una maggiore attenzione e pensare che, come si dice, ce l'abbiamo in casa e nessuno ovviamente lo sa. Adesso qualcuno magari in più lo saprà e questo ne va dato atto. Speriamo per il futuro che questo sport venga pubblicizzato, comunque ecco, magari alle Olimpiadi. Come, sì, come ovviamente una struttura per il pattinaggio a rotelle è una struttura che deve avere delle particolarità. Allora, diciamo che fondamentale è almeno, almeno dico, 20x40 perché è il minimo regolamentare per gare federali. Certo, più grande, ben venga. E il pavimento migliore è sicuramente il parquet. Quello, se c'è, magari, se no è un bel cemento al quarzo, eccetera, però ecco, basta che sia pattinabile, si dice, liscio, che scorre e magari che ammortizza anche i salti e quando uno arriva dalle evoluzioni, diciamo così, che sia comunque un minimo ammortizzabile perché se no ne risente un po' la schiena, ecco, ginocchia. Sì, parlaci un po', tu sei di Viterbo. Sì. Parlici un po' di come se la città in qualche modo ti ha dato un'impronta, un aiuto sulla scelta di questo pattinaggio. Ma onestamente no, nel senso che, diciamo purtroppo, sempre perché è sport minore, perché come penso in tutti i posti, il calcio, no? Quello fondamentale, quello primario. Però ecco, i genitori mi sono stati sempre dietro e mia mamma, che chiamo mamma taxi, perché mi ha portato avanti e indietro per tutta Italia, da sempre. Per tutto il mondo. Eh, Dio, sì, alla fine sì. E quindi ecco, no, in realtà la città non per cattiveria, ma magari neanche lo sapeva. E quindi è questo. Un po' il limite dello sport in sé, purtroppo. Parliamo un po' di qualche notizia più approfondita di quello che è il pattinaggio a rotelle. Io non so nulla, chi ci ascolta non sa nulla. Proviamo a dargli un'impronta su cose basilari, anche qualche piccola notizia, diciamo, di approfondimento. Allora, noi ecco, il pattinatore lo chiamano il danzatore sulle rotelle, a rotelle chiaramente, perché è un mix di caratteristiche che sono dalla forza, l'equilibrio primario, la resistenza, perché comunque poi in gara ci sono tot minuti e bisogna fare l'esercizio, è un esercizio comunque di resistenza. La musicalità, tantissima, come dicevo prima, il discorso della musica, c'è un po' l'espressività, la grazia, l'eleganza, però tutte caratteristiche che apparentemente anche contrastanti, come la grazia con la forza. Però servono tutte, perché questo è. Perché ecco, bisogna essere comunque le giadre deleganti, diceva sempre mio padre. E è vero, e allo stesso tempo avere un fisico proprio d'atleta. Non si può improvvisare o pensare di andare su un attrezzo che poi alla base del piede è fondamentale per la statica e poi la dinamica dell'essere umano. Non si può pensare di andare su un attrezzo del genere senza avere comunque il fisico poi preparato, quindi bisogna allenarlo in maniera specifica per questo sport. Chiaramente, e io per dire, ecco, mi sto avvicinando anche da questo punto di vista a una specie di, una specie, una forma di attività fisica nuova, diciamo una metodica nuova, che è l'allenamento funzionale, che è il functional training, detto, che un po' con la laurea in scienze motorie ha preso al fuori talico di Roma. Però, ecco, dal discorso laurea poi ho conosciuto un ragazzo di Viterbo, Francesco Ripa, che è responsabile, lui, del settore nel Lazio, di tutto l'allenamento funzionale. E ci stiamo avvicinando e stiamo in procinto di fare poi un video appunto specifico per la preparazione fisica, per il pattinaggio, con l'allenamento funzionale. E quindi, ecco, è una spinta in più, una cosa nuova sicuramente in questo mondo che vogliamo dare, perché un po' l'esperienza d'atleta, un po' con gli studi fatti, mettiamo insieme queste nozioni, vediamo un po' che esce fuori, speriamo qualcosa di buono. Quindi è un passaggio naturale dall'atleta poi all'insegnamento, in questo caso tu? Nel mio caso sì, perché alla fine ho detto, soprattutto spinta dal discorso umano, perché ho detto ci sono tanti bambini, alla fine che gli piace anche, perché fare solo o danza o ginnastica artistica, no? Perché non è olimpico e non è conosciuto, non bisogna farlo appunto conoscere. Esiste anche il pattinaggio artistico, quindi sono insegnante alla Polisportiva Reall'Azzurra di Grotte di Castro e da lì ho iniziato il terzo anno che sto là, piano piano vediamo un po' le entrate dei bambini e quindi è il discorso umano perché a me piacciono a prescindere i bambini tantissimo, mi ci diverto e tutto. Poi ho fatto studi pedagogici al liceo, quindi mi ci trovo proprio, mi viene naturale. E rispondono? Come no, abbiamo fatto adesso le prime gare federali quest'anno al Trofeo Lazio, dove su tutte le società del Lazio che hanno partecipato si sono classificate benissimo, anche un po' inaspettatamente perché come prima gara federale, per alcuni proprio prima gara in assoluto, si sono classificati alcuni sul podio o all'ombra del podio, quindi proprio bravi, è stata contenta per questi bambini. E ovviamente immagino loro quanto siano stati soddisfatti di portare finalmente in gara quello che hanno studiato per tutto questo tempo. Che hanno provato, certo. No, soddisfattissimi, soprattutto per la ben riuscita proprio della gara in sé, perché al di là del discorso tecnico che poi gioca l'emozione e tutto, però sono stati carini perché come prima esperienza anche da parte poi dei genitori da fuori, hanno detto, bello, bello che ne esiste anche uno sport del genere. Sono tre anni che ci dicevi un segno, hai già captato, visto qualche ragazzo che è in grado, o ragazze che sono in grado di... Beh sì, magari ce ne sono chi più, chi meno geneticamente, poi lì il discorso di prima sta all'allenatore, tirare fuori da ognuno quello che può dare, perché poi c'è tantissima anche la componente emotiva in gara, e non è detto che magari un bambino portato a livello atletico poi sia in grado di reggere emotivamente. Magari in gara rende di più quello meno portato, però emotivamente c'ha il controllo e tutto. Quindi è lì, è interessante e pure divertente vedere le diversità di ognuno. Ovviamente i tuoi allenamenti sono senza pubblico, o con poco pubblico. Porte chiusi. Le prime gare sono subito... A impatto col pubblico, un po' di incerto. Poco pubblico perché sempre il discorso che non è famoso, diciamo così, lo sport. Ma queste gare generalmente dove si realizzano? Ma allora dipende le piste che ci sono, o all'aperto. Nella zona... Allora, su Viterbo, sì, alcune gare sono state svolte anche su Viterbo. Però principalmente magari su Roma ci si sposta, perché ci sono le piste all'Eur e le Tre Fontane, che sono quelle un po' più conosciute da tutti e più raggiungibili, diciamo. Perché è importante, come dicevo sempre prima, la metratura. Quindi anche da noi, per dire, a San Lorenzo, perché patiniamo San Lorenzo Nuovo, che c'è questo palazzetto, bellissimo, in parquet, però purtroppo non è regolamentare, quindi è di qualche metro più piccolo e allora le gare federali non le possiamo ospitare. Però trofei, sì, ma le gare federali magari quelle no. Pensare che bastava talmente tanto poco... Un metro più di larghezza e uno di lunghezza era... Perché probabilmente quando è stato realizzato non si è pensato al pattinaggio a rotelle, ma a tanti altri sport, come spesso accade. Tu studi anche osteopatia. Sì. E ci dicevi, a microfoni spenti, che c'è questa tua intenzione di unire i tuoi studi al lavoro che stai effettuando di insegnamento con i bambini. Sì, allora, osteopatia è un percorso che ho iniziato due anni fa e sono sei anni. Sono iscritta al CERDO, alla Scuola di Roma, che è tra le più, se non la più, diciamo, importante, se posso usare questo termine, per quanto riguarda appunto l'osteopatia in Italia. E' un bel percorso, perché è una medicina manuale intanto, tratta non soltanto a livello muscolo-scheletrico del corpo, chiaramente, ma anche a livello viscerale e cranio-sacrale, che è un discorso, ecco, magari da approfondire perché è lunghissimo, è un mondo, però da mischiare, io dico, con lo sport, perché il principio è quello, che il corpo è tutto collegato, è un tutt'uno, quindi non si può pensare poi di allenare un muscolo solo o come tanti pensano o in sala pesi o in altri modi, in altri modi, allenare una zona sola del corpo, per dire nel pattinaggio si usano tanto le gambe, alleniamo le gambe, punto, no? Il principio è questo, che come poi è l'allenamento funzionale, quindi torna tutto, è un cerchio, il functional training, osteopatia, messo insieme al pattinaggio, che è adesso il mio lavoro, è un bel progetto, ecco, che sta iniziando, vediamo un po' di crearlo piano piano, proprio sul principio, che il corpo è un tutt'uno, quindi bisogna, con le catene muscolari, fasciali, eccetera, allenare nella maniera giusta, chiaramente specializzata adesso nel mio caso, però questo, fare un lavoro globale, specifico, adatto ad ognuno, perché poi va individualizzato, ma con questa nuova metodica dell'allenamento funzionale, appunto. Ma questa è una cosa estremamente interessante, perché può dare anche quella, come posso, quella maggiore attenzione anche, è brutto il termine professionalità, però mi verrebbe da dire questo per la crescita dei ragazzi sotto questo punto di vista. Noi cerchiamo di dare comunque il più possibile, il meglio, cercando di prendere un po' le esperienze, un po', la formazione con gli studi, eccetera, di dare il più possibile a chi capita sotto mano, viene da dire. Però è chiaro, nella professionalità più assoluta, perché uno ha comunque in mano materiale umano, se possiamo dire, quindi insomma bisogna stare molto attenti e cauti, bisogna sapere cosa vai a fare, quindi sicuramente la preparazione è fondamentale e di lì anche professionalità. Anche perché ovviamente ogni bambino, ogni ragazzo è diverso l'uno dall'altro, per cui... Va individualizzata sicuramente la cosa, però ecco, a livello globale, diciamo, dare un'impronta generale di quello che è sicuramente la preparazione, nel mio caso, del pattinaggio, però con la metodica dell'allenamento funzionale, che poi sono i principi osteopatici, poi, del corpo che è un tutt'uno, del collegare, anche dal punto di vista traumatico, se mi faccio male da una parte, però controlliamo anche altro, dal punto di vista anatomico, fisiologico, ce n'è. Insomma, ci vuole un'altra, forse altre due di puntate per parlare anche di questo discorso, che magari da qui a qualche tempo si potrebbe anche realizzare un altro appuntamento specifico solo su osteopatico, anche perché di questi argomenti ne abbiamo fatti e trattati ultimamente veramente moltissimo e sono sempre, ogni volta che ne trattiamo, sono sempre affascinati e trovano sempre qualche cosa per cui continuare a parlare senza dover smettere mai, ma il tempo ormai comincia a essere un po' tiranno, come si dice in questi casi. Quanti bambini hai? Allora, adesso sono, ma diciamo pochini, perché comunque è nuova un po' la società, poi bisogna fare più pubblicità, perché anche nei paesi intorno non è che si sappia tanto, quindi noi stiamo vicino a Bolsena, ho bambini che vengono da Pitigliano, quindi anche un po' un anno, diciamo, quelle zone, bisogna fare pubblicità il più possibile, perché alla fine è così, perché nelle realtà piccole, dove già magari gli abitanti non sono tantissimi, in più neanche sanno che ci sono delle attività, è chiaro che poi bisogna puntare la pubblicità, al farsi vedere, conoscere, in qualche modo sì. Ma ce ne sono altre? Forse a Viterbo? A Viterbo sì, altre società ce ne sono, e nei dintorni no. Cioè, vabbè, io sto lì a Grotti di Castro, acqua pendente, su Viterbo un po', però è chiaro, poi uno sceglie quella più vicina o anche più comoda per i genitori, perché poi è quello che è il genitore che poi porta il bambino, quindi... Altra cosa importante che è da conoscere, per chi magari vuole avvicinarsi per la prima volta, non è uno sport economicamente così importante. È un po' di nicchia, è un po' di nicchia il patinaggio, sì, perché comunque è una realtà, bisogna dirlo, perché è così, i pattini hanno un costo, di conseguenza i body, che sono i vestiti, che ci si mette alle gare, esibizioni, hanno anche quello un costo, poi è chiaro, dipende dal livello, è ovvio quello, però non è il bodino o la scarpetta, ecco, e basta, quello... dico purtroppo perché è così, però... Alla fine, però se piace uno è disposto, via. Beh, del resto si spende tanto per tante cose, per cui diventa anche necessario riuscire a... Ma poi io dico sempre ai miei genitori, dico, i genitori dei miei bambini, che è meglio spendere un po' di più sul patino, ma che sia buono, professionale e tutto, in maniera che è pure per la sicurezza del bambino, che magari andare a risparmio, però poi dura poco, oppure cade, si fa male, bisogna cambiare pezzi, e allora no, professionalità anche da quel punto di vista, intendo, quindi... Sì, no, questo assolutamente sì, poi nel mezzo, in questo caso, i pattini, poi insomma c'è la persona, ovviamente... Eh certo, dipende da tante cose, dal peso, altezza... Le condizioni sono sempre molto delicate, insomma, la caviglia... Perché non si usano protezioni, perché parecchi dicono, ma posso venire con le ginocchiere, le ginocchiere, no, si fa in maniera naturale, quello è il freestyle, americano, un'altra cosa... Quello è il freestyle, no... Ma hai fatto mai? Eh oddio sì, ma divertimento, proprio per gioco, così... Quindi non insegni... No, il freestyle no, il pattinaggio artistico... Si va, diciamo, sul classico in questo caso... Beh sì, i danzatori sui pattini, appunto, quindi da lì si mischia quello che è... Singolo o coppia? Allora, ovviamente si inizia con il singolo, perché bisogna prima trovare il proprio equilibrio, la propria... il proprio controllo, così... Poi, io sono una patita per la coppia, a me piace la coppia, infatti ecco, da coppia danza, poi coppia artistica, che pure quella è una cosa particolare, perché in genere quasi, non dico geneticamente, ma comunque dalle caratteristiche di ognuno si scinde, perché sono due tipologie di coppia completamente opposte, quindi... Io l'ho fatte tutte e due, mi sono piaciute entrambe... Entrambe... E mi piacerebbe poi fare creare delle nuove coppiette, diciamo, di bimbi, però... Ma il tuo compagno, ovviamente, di pattini era... è stato sempre, diciamo... Compagno di pattini e basta, assolutamente... No, la domanda non era questa, era, diciamo, era lo stesso per le gare che anche per... Sì, sì, beh, chiaro, sì, sì, bisogna... eh sì, allenarsi con la stessa persona... Quanto tempo ti alleni? Vabbè, dipende sempre dai livelli che si fanno, io ai miei di livelli, quando ero atleta, beh, parecchio, almeno... parte tutti i giorni, ma proprio tutti, sì, no la domenica di riposo, e... anche più volte al giorno, perché comunque poi c'è la preparazione fisica, c'è l'allenamento che serve sui pattini di singolo e di coppia, poi anche se le gare magari le fai soltanto di coppia, nel mio caso è stato così, però anche di singolo ti devi allenare, e quindi l'allenamento è fondamentale, perché più arrivi preparato e più è facile poi affrontare la gara, no? Anche a livello emotivo, se tu hai la sicurezza e la tranquillità, che comunque ti sei allenato tanto e bene, parte dell'emotività, va via. Va via. Sarà interessante capire, insomma, come poi i ragazzi sviluppano questa, diciamo, questa, questo modo di stare anche sul pattino, ognuno ha, sono caratteristiche diverse. Infatti la cosa, vabbè, la cosa bella è questa, che bisogna dare comunque la tecnica di base a tutti, chiaramente, però senza, secondo me, togliere poi quello che caratterizza la persona. Quindi non creare tutte macchinette uguali, ma nella tecnica fondamentale, basilare, dare quel tocco di personalità, lasciare quel tocco di personalità di ognuno. Senti, ci parli di una, visto che abbiamo poco meno di quattro minuti, le tue esperienze, diciamo, anche a livello internazionale, diciamo, qualche, non so, qualche gara che ti è rimasta più bello, sicuramente, più bello, qualche momento anche difficile che hai superato. Ricordo più bello al primo campionato europeo, quello di coppia danza, che abbiamo fatto in Attavira, in Portogallo, perché è stata una gara bellissima, a mio avviso, a me poi piace il sole, no? Quindi là stavamo sull'oceano, la prima esperienza, quindi piccolina, avevo 13 anni, quindi mi ha proprio colpito l'evento in sé, proprio è stata un'esperienza bellissima. Quella un po' più difficile, forse l'ultima, il mondiale a Kaohsiung, di coppia artistica, in Cina, sì, di coppia artistica, perché lì ero un po', diciamo, tra virgolette, arrivata fisicamente, tra un po' traumi passati e altri discorsi, quindi lì ero un po', ecco, di testa più che altro, un po' arrivata, diciamo, però è stata bella anche quella. È stato l'ultimo quello? Sì. Posso aver arrivato un po' di testa? È probabile anche per quello. Quindi è stato l'ultimo e, diciamo, qualche momento invece in cui hai pensato, no, non ce la faccio a finire la gara, invece poi è andata bene? Questa ultima, perché avevo comunque subito traumi precedenti fisici, da cadute e cose varie, e l'ho fatta con antidolorifici, quindi questa ultima ho detto, oddio, ce la farò? Proprio fisicamente, per i traumi, ecco, passati, però alla fine sì, dai, è andata. Tu che gli dici ai bambini quando cadono? Che si devono rialzare, ovviamente. Si cade, è la prima cosa che insegno, alla caduta, proprio si insegna a cadere. E poi da lì ci si rialza, perché mica succede niente, bisogna cadere per imparare. Non c'entra nulla, però c'è differenza tra questo e pattini su ghiaccio? Beh, sì, diciamo, globalmente è lo stesso sport, però cambiando il pattino, quindi la base d'appoggio, poi cambia tutta la tecnica. Quindi è come un po' un tra virgolette riniziare da capo, però poi ecco, chi è portato, chi l'ha fatto per anni a rotelle o viceversa, ci mette poco ad imparare l'altro. Però si cambia l'attrezzo, anche se lo sport è lo stesso. Siamo in dirittura di arrivo. Se tu volessi farti un po' di pubblicità, no? Nel senso, ci sono i ragazzi che ti guardano, che ti ascoltano e che vogliono, magari in curiosità, venire a provare. Ma noi intanto siamo al palazzetto di San Lorenzo Nuovo e è uno sport, che dire, bellissimo per me, perché è un mix tra danza, musica e soprattutto non è solo, ecco questo ci tengo a dire, che non è solo femminile, ci sono anche tanti maschi e bravissimi, tra l'altro, che pattinano. E è bello proprio questo, vedere le caratteristiche fisiche di tutti, maschi e femmine che siano, messe poi insieme a quello che è grazia ed eleganza. Quindi non vi preoccupate, maschi e femmine, venite a provare tutti i pattinaggi. Ok, tutto per questo appuntamento. Noi ringraziamo Francesca per essere stata qui con noi. Magari se ci sarà l'occasione di tornare a parlare, magari proprio di questi nuovi studi. Come no? Da qui a qualche tempo, noi siamo sempre a disposizione. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito, parliamo nel suo RTO2, torno alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti